Benvenuti a questa lettura corsiniana che conclude un breve ciclo di tre letture che quest'anno abbiamo voluto dedicare al tema della complessità. Partendo dalla complessità delle reti neurali che ci ha raccontato il socio Maurizio Corbetta descrivendo con immagini bellissime l'architettura e la funzione delle reti che connettono diverse aree del cervello per poi passare alla complessità dell'interazione fra ambiente e salute che ci ha illustrato il socio Paolo Vineis. Oggi ascolteremo qualcosa di più e di diverso sul tema della complessità, cioè il fatto che fenomeni complessi estremamente differenti, apparentemente disordinati, casuali, possa essere sottesi da alcune regole comuni descrivibili con formule e funzioni matematiche. Giorgio Parisi, che è la persona che abbiamo inseguito per circa un anno per convincerlo a fare questa lettura. Si è laureato in fisica alla Sapienza Università di Roma con un illustre fisico, Nicola Cabibbo, che avrebbe probabilmente meritato il premio Nobel e come forse sapete essere allievi di un premio Nobel o quasi premio Nobel è un predittore della probabilità di conseguirlo poi nella propria carriera. Giorgio si è laureato a 22 anni, nel giro di 10 anni era professore di fisica teorica, prima a Tor Vergata dove è stato circa 10 anni e poi alla Sapienza dove ha passato il resto della sua carriera accademica ed è oggi professore merito nella stessa Università della Sapienza di Roma. Lui ha fatto tantissime cose, è diventato giovanissimo socio di questa Accademia, di cui poi è stato presidente. e vorrei raccontarvi soltanto un piccolo episodio, Fabio se mi dai la prossima diapositiva, tratto da questo libro di cui parlava Anna Dolfi, per descrivervi una persona i cui contributi che hanno portato al premio Nobel non sono stati semplicemente un'intuizione fugace di un momento particolarmente felice. ma una serie di contributi che partono da un'età molto precoce, come vedremo, di una mente geniale, di una mente curiosa, che si interessa di tutto quello che compare nel proprio radar, anche le cose più diverse, come è capitato durante la pandemia Covid-19. è una mente dotata di una capacità di sguardo laterale non banale e assolutamente inusuale per la sua intensità e la sua dimensione. Questo episodio è raccontato in questo libro e parla di un anno, il 1973, in cui Giorgio lavorava al CERN a Ginevra e aveva una conversazione con un brillante fisico olandese di Utrecht, Gerhard de Hoost, il quale aveva fatto un'osservazione molto importante, con la quale Giorgio voleva provare a costruire una teoria che descrivesse i protoni e altre particelle. E tuttavia questa teoria mancava un pezzo, e questo pezzo mancante, in realtà Giorgio lo conosceva, era nella sua biblioteca mentale, però non è comparso sul radar, perché nessuno ha evocato il nome della persona legata a quel modello. Se mi dai la prossima, in questo ultimo capitolo intitolato con una canzone di Edith Piaf, come vedete, Giorgio dice, quel poveriggio del 1973 ci lasciamo sfuggire un'occasione da Nobel, per fortuna di entrambi non sarebbe stata l'unica. Gerhard de Hoost prese premio Nobel nel 1999, la prossima, Fabio, Giorgio l'ha ricevuto il 6 dicembre del 2021, in una bellissima cerimonia che si è svolta nell'Aula Magna dell'Università della Sapienza, la prossima, durante la quale ha ricevuto premio Nobel dall'ambasciatore svedese in Italia. La prossima, non trovo parole più adatte di quelle usate dal Nobel Committee per descrivere la motivazione di questo premio Nobel, per la scoperta dell'intergioco, dell'interscambio, del disordine e delle fluttuazioni in sistemi fisici che vanno dal livello atomico al livello, alla scala planetaria. E l'ultima diapositiva che volevo far vedere, nella descrizione del suo lavoro si dice il nostro mondo è pieno di sistemi complessi caratterizzati dalla casualità e dal disordine. Intorno al 1980 Giorgio Parisi ha scoperto dei pattern nascosti in materiali complessi disordinati. Le sue scoperte sono fra i contributi più importanti alla teoria dei sistemi complessi. Queste scoperte, questi contributi rendono possibile capire e descrivere molti materiali e fenomeni differenti, apparentemente interamente casuali, non solo nella fisica ma anche in altre aree molto differenti, quale la matematica, la biologia, le neuroscienze e il machine learning. Giorgio Parisi. Il capitoletto che ci dava Carlo, a parte quella frase e tutto il resto, il capitoletto era stato scritto prima dell'insegnazione del premio Nobel e anche il titolo, Gene Gratrien, era stato dato prima. Poi dopo, dato che il libro è stato scritto, questo libro è stato scritto nel 2018. Poi nel 2018 è successo qualcosa nella mia vita, che sono diventato presidente dell'Accademia dei Lincei. Io volevo aggiungere un paio di capitoletti a quel libro, poi il contratto è stato firmato nel 2016, nel 2016 mi ero impegnato a dare il libro entro sei mesi. Poi ho detto, aspetto per fare questi capitoletti e poi a questo punto, quando è stata l'insegnazione del Nobel, hanno detto, facciamo uscire subito il libro, anche se questi due teoretti aggiuntivi che volevo mettere non c'erano e quindi poi è stata fatta qualche piccola modifica editoriale come quella che aveva detto Carlo. Però il titolo era già prima. Allora, come Carlo ha detto, la motivazione del premio Nobel è quella stessa, perché la prima è anche un pochettino incomprensibile, infatti per un certo tempo sono stato indeciso su cosa volessero dire esattamente su scala planetaria, nella motivazione, e il punto è stato contributo sullo studio dei sistemi complessi. Allora, quello che bisogna dire in generale è che i sistemi complessi è che ogni sistema è complesso a suo modo, cioè i sistemi semplici possono in qualche modo rassomigliarsi molto, ma il modo in cui la complessità si esprime nei sistemi diversi è molto diversa. Quindi quello che succede, da un lato bisogna evitare di fare qualche cosa in cui delle teorie completamente distaccate per ogni tipo di sistema diverso, dall'altro lato non esiste la figura del complessologo o della complessologia. Quello che succede è che le teorie dei sistemi complessi prendono degli strumenti gli uni dagli altri e cercano di andare avanti. Allora, quello che... Il mio studio, che è un studio che abbiamo fatto, ma poi non è un studio mio, perché siamo stati sempre come minimo nell'orzina di persone, riguarda essenzialmente quelli che si possono chiamare stormi di storni. Sembra un po' no songwyrin, ma in inglese è molto più facile da dire floco starling. E essenzialmente sono questi gruppi di uccelli che voi vedete, specialmente a Roma, ma in moltissime altre città, specialmente nella zona del Mediterraneo, se vogliamo in Europa, non credo che si vedano a Parigi o nelle città del nord, è d'inverno. Questi sono... Allora, vediamo un istante e capire cosa fanno. Questi sono dei gruppi, fanno questi gruppi che fanno delle evoluzioni veramente spettacolari. Questa è una, quella che vedete a sinistra, è un'evoluzione alla sezione termini. Potete riconoscere che la sezione termini romani dalla lampada che sta a destra in basso, mentre quella invece, penso che tutti la riconoscono che sia San Pietro. La differenza, è una differenza fondamentale che la prima sono fatte da vicine, la seconda è stata fatta o dal Quivinale o da, certamente da molto lontano. E quello che succede è che ci sono queste evoluzioni spettacolari e per un lungo periodo ci siamo domandati ma come fanno gli storni non solo a coordinarsi fra di loro, ma in realtà la domanda che viene più naturale da un fisico è che forma hanno questi gruppi di ocelli? Perché noi vediamo delle, abbiamo tanti filmati e tante proiezioni di questo genere, vediamo che cambiano forma ma noi ci abbiamo semplicemente sulla nostra retina si forma solo un'immagine bidimensionale, non siamo in grado di fare un'immagine tridimensionale. È un pochettino come il mito della caverna di Platone dove ci sono le ombre che vengono proiettate sulla parete e le persone non hanno guardando queste ombre della parete la possibilità di costruire la struttura tridimensionale. Quindi una domanda che ci ponevamo, una domanda che ci siamo posti per tanti anni e per tanti anni ne abbiamo incominciato a parlare negli anni 90 e come capire la forma tridimensionale di questi di questi uccelli. Allora, tanto per darvi un'idea perché questi uccelli noi li vediamo sempre da lontano sono degli uccelli diciamo 15 cm di apertura lare quindi sono uccelli che più o meno grandi così non sono uccelli molto grandi e uno si domanda e questi biologi lo sapevano benissimo perché perché questi fanno dell'evoluzione. Allora, per capire perché questi uccelli fanno dell'evoluzione bisogna partire da dei dati di fatto noti ben noti e che questi uccelli sono degli uccelli migratori cioè a Roma li vediamo semplicemente da novembre a marzo tipicamente poi qualche anno tradizionalmente venivano i primi di novembre e partivano i primi di marzo adesso sembra che quest'anno con il cambiamento climatico abbiano un pochettino spostato le loro abitudini e sono uccelli che però normalmente fuori del periodo diciamo invernale freddo stanno nei paesi del nord e questi sono nei paesi del nord non solo lidificano fanno i piccoli e poi i piccoli vengono poi nei paesi del sud per passare l'inverno questi uccelli normalmente stavano andavano nell'ottocento dall'altro lato del Mediterraneo e poi pian piano hanno cominciato nel periodo sempre nel periodo diciamo freddo invernale a spostarsi verso il nord a spostarsi il nord per due motivi uno il cambiamento climatico e poi la formazione di isole calde nel nord che sono le città sappiamo tutti che le città sono un po' più calde un paio di gradi o uno o due gradi più caldi della della campagna e inoltre nelle strutture urbane ci sono i grandi palazzi che bloccano il vento quindi i venti gelidi di tramontane sono spesso bloccati nelle città e quindi è un posto un pochettino più confortevole che fuori e gli accorcia anche la distanza lievita di attraversare il Mediterraneo il problema però nonostante tutto nelle città non è a volte ci sono tramontane quindi a questo punto quello che è la cosa più pericolosa sono due grossi pericoli per gli uccelli uno ovviamente quindi freddo e l'altro se uno ci pensa anche gatti quindi bisogna quindi il problema è che questi uccelli come si evita il freddo il vento forte bisogna prendere degli alberi sempre verde mettersi degli alberi con delle foglie molto fitte in maniera tale che mettendosi in mezzo alle foglie fitte abbiano un po' meno freddo questo ripara abbastanza dal 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 freddo ma non non completamente infatti mi dicono che in varie occasioni le notti molto gelie a Roma che ogni tanto arrivano arrivavano con forte vento si trovano sotto quegli alberi decini di uccelli morti stecchiti per il freddo notturno e allora questi uccelli che cosa fanno e ovviamente hanno bisogno di un hanno bisogno di alberi sui quali i gatti non salgono non possono salire e così via quindi la scelta del posto da dove dormire è una cosa vitale per loro però cosa succede e cosa succede che questi uccelli tendono non possono rimanere vicino al posto dove dormono perché specialmente in città non c'è niente da mangiare quindi quello che loro sono costretti a fare la mattina presto all'alba a partire e poi si dividono in gruppi di un centinaio di uccelli di uno di gruppi di circa un centinaio e così via e incominciano ad andare per i prati vicino a Roma dell'albero a corda nullare a cercare di mangiare qualche cosa e quindi questi sono uccelli che hanno due caratteristiche cioè si tendono sono uccelli estremamente sociali nel senso che si muovono in comune per esempio quando vanno nei prati a mangiare circa la metà mangia l'altra metà si mette intorno guarda che cosa succede e in caso poter dare l'arrivo avvisare se arriva un predatore a questo punto si incominciano ad alzare tutte e così via quindi anche solo il mangiare nei campi richiede un'attività collettiva per stare estremamente attenti al predatore allora dato che questi progetti sono costretti a fare dei pendolari inversi cioè di 15 km nella direzione 15 km nell'alto non è evidente di ritrovare subito il posto giusto per dormire quindi l'interpretazione dei biologi è che queste grandi evoluzioni che vengono fatte la seva scusate queste evoluzioni le evoluzioni che noi stiamo guardando sono sevotine cioè vanno normalmente hanno un orario ben preciso incominciano mezz'ora prima del tramonto e terminano abbastanza bruscamente mezz'ora dopo il tramonto e dovete immaginarle come una specie di grande bandiera che viene agitata da questi uccelli in maniera che i primi che arrivano sul posto buono agitano queste specie di bandiera in maniera tale che gli altri uccelli sanno che quello è un posto buono per dormire queste evoluzioni si possono sono estremamente caratteristiche e si possono vedere a grande distanza per esempio dalla stazione Termini io ho visto le evoluzioni che vengono fatte sopra il laghetto dell'Era che sta a circa una decina di chilometri quindi è abbastanza chiaro perché non ci sono normalmente oggetti nel cielo che cambiano che cambiano così velocemente quindi quindi è un richiamo quindi gli uccelli quando incominci tornano dal dal lavoro diciamo giornaliero di mangiare in campagna a questo punto i primi che arrivano incominciano a fare segnali poi pian piano gli altri uccelli arrivano più si va verso quando le luci diminuiscono più questi movimenti diventano frenetici anche perché è più difficile osservarli da lontano e poi a un certo punto questi vanno giù scendono dentro gli alberi è una cosa abbastanza impressionante perché si vede questo gruppo di uccelli che scende giù e sembra quasi assorbito da un inghiottitoio perché stavano sopra poi scompaggiano poi passa dalla notte su questi alberi e però sono e sono dei gruppi verso la sera e il pomeriggio che sono estremamente estremamente numerosi cioè ci sono facilmente gruppi di 3.000 5.000 10.000 poi sopra 10.000 è più difficile contarli uno per uno perché anche su queste foto abbastanza belle ad essa e contare e capire quanti sono gli uccelli è più difficile sulla foto adesso in alta occhio direi che siano un 3.000 su quella in basso è proprio impossibile vederli l'altra cosa che aiuta non aiuta a causa un certo aumento di turbinio di queste di queste evoluzioni che gli uccelli fanno sui cieli di Roma sono i falchi pellegrini cioè i falchi pellegrini che penso che quasi nessuno di noi abbia visto su Roma sono una componente importante della fauna urbana e l'alimento preferito del fauna del falchi pellegrini sono gli storni d'inverno allora i falchi pellegrini i falchi pellegrini sono degli uccelli da un certo punto eccezionali credo che sia l'essere vivente più veloce che si sta sulla terra adesso mi sono dimenticata velocità permettetemi se dico cosa che non dovrei fare una cifra sbagliata ma dovrebbe essere sui 200 all'ora anche più impicchiata quindi mentre gli storni vanno su un moderato 70 all'ora quindi da motosecretta i falchi pellegrini fanno una picchiata quindi sono praticamente una Ferrari e uno potrebbe pensare che un falco pellegrino non ha nessuna difficoltà ad accappare uno storno e portarselo a casa in realtà la cosa non funziona in questo modo perché quello che succede è che prendersi uno storno isolato è relativamente facile per un falco li va addosso e così via allora ma gli storni come vedete non stanno isolati se vedete bene specialmente nella prima foto si vede che sono delle cose con margini molto nette questo è abbastanza caratteristico il motivo di queste margini molto nette è che se lo storno non sta vicino ai propri compagni può essere facilmente una vittima del falco allora perché stare vicino agli altri compagni e li difende dal falco perché uno potrebbe pensare che il falco è viva va dentro il gruppo ce ne sono tanti ne prende uno e se ne va via il problema è questo il falco ha un'apertura all'area non vorrei sbagliarmi sopra il metro credo un metro e venti o qualcosa del genere e quindi lui e quello che succede gli uccelli come come mi è stato insegnato hanno delle ossa molto leggere questo lo vediamo subito ma sono anche relativamente fragili queste osse sono certamente molto meno anche selastiche sono un po' meno resistenti delle nostre ossa praticamente a uno shock e una collisione a 100-200 all'ora fra un falco e un uccellino sull'ala può causare la rottura dell'osso delle ali quindi gli storni non hanno nessuna scusatemi i falchi pellegrini non hanno nessuna intenzione di entrare dentro un gruppo di storni perché questi storni specialmente quando c'è un falco stanno 80 cm dall'altro quindi stando questi uccelli a una distanza molto più piccola dell'apertura all'area dei falchi pellegrini e il falco pellegrino deve in qualche modo cercare di attaccare questi uccelli cercando di aspettare che qualcuno sul bordo si sposti e poi prenderselo ovviamente quando il falco pellegrino attacca gli uccelli tendono in qualche modo come riflesso a spostarsi ma sempre cercando di mantenere al massimo questa correnza e come si vede e lì si vede una bella foto che ha ricevuto un premio mondiale per la fotografia non mi ricordo chi in cui si vede un falco un falco pellegrino che attacca e si vede proprio dalla forma dalla forma del gruppo degli uccelli degli storni che gli storni in qualche modo si vede il buco in qualche modo stanno scappando però stanno anche cercando di mantenere la loro coesione quindi questi comportamenti quindi sono uccelli con un comportamento sociale come dicevo estremamente importante un comportamento sociale è il fatto di andare a prendere quello che andava in campagna assieme in gruppi del centro segnalare gli uni agli altri posti buoni per dormire e dall'altro lato fare questa cosa di coesione per evitare gli attacchi dei falchi l'altra caratteristica fondamentale dei storni che non è mai stata estremamente mai studiata a fondo che sono animali molto canterini cioè loro hanno una notevole capacità di cantare sia di imitare il suono di canto di altri uccelli sia di melodie infatti si racconta che Mozart una volta era andato a un negozio di uccelli e aveva trovato uno storno che cantava un brano di una sua composizione e la cosa era allora Mozart osserva dice era tutto giusto solo a posto di un si faceva un si bemolle e la cosa era superfacente che la composizione di Mozart questa composizione di Mozart non era mai stata eseguita la conoscevano lui e i suoi assistenti quindi evidentemente qualcuno dei suoi assistenti è andato nel negozio fischettando la composizione di Mozart e lo storno si era preso subito Mozart si è innamorato di quello storno l'ha comprato dopo qualche anno lo storno è morto e lui ha organizzato un funerale in cui ha invitato anche gli amici questo l'importanza però nella comunicazione di questo di questi suoni eccetera questo è qualcosa che non è mai stato fatto anche per le difficoltà a in qualche modo a osservarla ecco queste tanto per farvi vedere sono delle altre foto che abbiamo fatte noi il gruppo nostro a Roma e questo è un filmato che abbiamo fatto in cui si vede la complessità di questo la complessità credo che siano sul sul ghetto dell'Evro dove si vedono ci sono vari storm gruppi che si sovrappongono l'uno l'uno con l'altro vedete poi questo è il cambiamento improvviso di colore di densità di questi di questi gruppi che è effettivamente impressionante è sul laghetto dell'Evro si vede anche dalla dalla fontana e questo è uno spettacolo che i romani hanno visto molto spesso infatti anche a volte ci sono delle persone che si fermano a piedi si fermano alla laghetto dell'Evro a stare così per cinque minuti e passa a vedere questi che questi uccelli che che volano quindi questo è un esempio di quello che si può vedere aspetta come va avanti ecco ecco questo invece è un falco pellegrino che vola e sotto c'è un gruppo di storni che lui ha docchiato questi stanno un pochettino si muovono un po' agitati per l'attacco e vedete che a questo punto lui attacca non prende niente ma riesce a a dividere il gruppo in due ma il gruppo in due quasi istantaneamente si riforma lui prova di attaccarlo si riparano dei gruppi più piccoli e vedete sopra questo è stato fatto dalla terrazza di Palazzo Massimo e qui siamo grati alla direttrice di Palazzo Massimo per averci ospitato sul sul grande terrazzo di Palazzo Massimo e quello che voi vedete sotto è la parte sopra della sezione Termini anche se non è facilmente riconoscibile perché uno la vede normalmente dal basso non la vede dall'altro e come vedete anche in questa cosa terminale vedete che finale vedete che è molto compatto il gruppo cioè c'è una regione molto compatta e poi dopo praticamente non c'è niente e giustamente perché gli uccelli che stanno fuori tendono a entrare dentro quindi a questo oh va bene questi filmati sono fatti è stato fatti da un da un etologo del nostro gruppo Claudio Casiere che ringrazio allora questo sono in qualche modo i fatti i filmati non sono forse fra i più belli che ci sono stati fatti sono i filmati i filmati fatti 15 anni fa però ho voluto presentare questi anche perché sono i filmati che dall'altro hanno fatto i filmati che abbiamo fatto noi e che poi da un lato illustrano bene queste due cose dal lato la complessità del gruppo e quello che succede il problema dell'attacco dei falchi allora cosa può pensare di fare uno scienziato quando si mette davanti un problema di questo genere beh la prima cosa che uno vuole fare almeno come come fisico ovviamente gli etologi hanno una quantità enorme di lavoro da fare di capire perché i comportamenti che l'hanno fatto e così via l'altro problema assolutamente non risolto di cui non si sa al momento attuale capire se sono gli stessi se alla stazione termini sono gli stessi uccelli del giorno prima che dormono o sono uccelli diversi il problema è che uccelli molto leggeri come questi adesso non ricordo il peso non è possibile attaccarli del gps per far per far per intracciarli poi poi anche riaccappare del gps è complicato perché bisogna catturarli rilasciarli e così via ma certamente il gps nel gps che che emettono non si può perché anche se sono 10-20 grammi o qualcosa del genere può essere che adesso fra qualche anno si riuscirà a fare qualcosa di più leggero quindi in parte dei tolli ci domandiamo come fisici la prima domanda che uno vuole rispondere è come si muovono gli storni in tre dimensioni e poi ci sono domande successive una volta che uno ha capito come si muovono quindi un dato di fatto un dato di fatto sperimentale è capire come si coordinano fra di loro poi l'altra domanda è come fare un modello del loro comportamento capire che regole segue se concretamente si può fare un programma di computer che genera immagini simili a questo e poi cosa si può capire in generale ora la prima domanda però come si muovono gli storni in tre dimensioni è la cosa fondamentale perché la prima cosa che bisogna capire è che cosa fanno veramente e noi vedendoli da sotto questo modo non possiamo farlo d'altro canto quella è la prima domanda prima di cercare di rispondere a quelle successive io mi ricordo che da piccolo leggevo molto Sherlock Holmes che mi piaceva molto e una delle cose che mi aveva colpito è che a un certo punto Sherlock Holmes si diceva a Watson e Watson gli domandava ma secondo lei come si è svolta questa scena che cosa è successo veramente perché lui aveva avuto solo delle informazioni parziali e stava andando in treno sul posto del delitto e Sherlock Holmes risponde guarda prima di avere i dati di fatto io cerco di evitare di farmi delle teorie perché se poi mi faccio delle teorie precise prima mi innamoro di queste teorie e non riesco poi a a vedere i dati di fatto e cerco di trovare solo quelli che appoggiano le mie teorie e non vedono gli altri quindi la prima domanda fondamentale è come se uno ha un ristorno in tre dimensioni allora come uno ha un ristorno in tre dimensioni ma noi abbiamo sappiamo tutti che abbiamo due occhi e quello che sappiamo anche è che i due occhi ci servono ci servono per tanti motivi ma una delle cose che ci servono è che i due occhi ci permettono di vedere e capire più o meno a che distanza sono oggetto questo basta fare la prova che se uno chiude un occhio e vuole poi infilare qualcosa così dentro un oggetto tende a sbagliarsi con un occhio solo mentre con due occhi ci riesce perfettamente e come funziona questo fatto della visione con due occhi la visione con due occhi funziona molto semplicemente l'immagine di un occhio è lievemente diversa dall'immagine dell'altro occhio quindi se volete per mettere a fuoco un oggetto a una certa distanza e guardarlo bisogna far convergere un pochettino i due occhi in maniera che siano nello stesso punto della retina l'immagine e a questo punto il cervello si accorge di quant'è questa convergenza necessaria per vedere questo quindi a questo punto uno può dire bene facciamo la stessa cosa per gli uccelli allora perché non questa cosa non funziona con gli occhi per un motivo molto semplice noi con gli occhi riusciamo certamente a vedere questa cosa per oggetti vicini ma progetti a 5 metri di distanza noi non riusciamo a far funzionare questo sistema perché stanno proprio a troppa distanza l'immagine dell'occhio destro progetti molto lontani abbastanza simili a quelli dell'occhio sinistro e quindi quello che è l'idea è diceva bene cosa facciamo facciamo un esperimento in cui al posto degli occhi mettiamo degli occhi virtuali delle macchine fotografiche in maniera che questi facciano le foto da dei punti diversi e a una certa distanza per esempio 25 metri di distanza in maniera tale che come l'occhio che ha una distanza di 10 cm riconosce bene oggetti a distanza di un metro oggetti macchine fotografiche a 25 metri di distanza possono riconoscere le posizioni di storni a 300 o 400 metri di distanza e a questo punto perché Palazzo Massimo ma Palazzo Massimo che è ben famoso per altri motivi ha il vantaggio di stare sopra un dormitorio spettacolare quello della restrizione termini che per questi ultimi anni sembra un po' passato di moda e dall'altro abbia una grande terrazza in cui ci si possa mettere le apparecature a 25 metri 30 metri di distanza cosa non facile è pubblico e quindi è un'istituzione diciamo di alta cultura e quindi si è ospitato facilmente mettersi su una terrazza privata di un condominio sarebbe stata un'operazione un po' più complicata e poi mentre il palazzo Massimo era perfetto allora come abbiamo fatto essenzialmente l'idea è stata questa abbiamo preso due macchine fotografiche poi adesso ne vedete sei intanto supponiamo di prenderne solo due supponiamo quelle verdi e le abbiamo messe essenzialmente a 25 metri di distanza e le abbiamo orientate in maniera tale che convergono essenzialmente a degli oggetti su una distanza di 300 metri allora il motivo per cui ne vedete ne vedete tre di macchine fotografiche sei ma adesso supponiamo di prendere il blocco di macchine fotografiche c'è un terzo blocco di macchine fotografiche a distanza di due metri e mezzo e che a volte questi uccelli stando una densità abbastanza forte si oscurano l'uno con l'altro sull'immagine fotografica c'è un uccello che sta dietro l'altro avendo un'immagine di riserva spostandola questo si poteva si può migliorare si può migliorare la cosa e vedere l'uccello dietro anche nel caso in cui in cui l'altro sta dietro a questo punto uno dice perché non mettere una quarta cosa fotografica essenzialmente quando era fatto l'apparato non era chiaro se la terza fosse veramente utile o meno utile poi non credo che avevamo i soldi per comprare quattro macchine fotografiche quattro però sei otto perché adesso quello che succede è che noi abbiamo preso le macchine fotografiche all'epoca Canon non mi ricordo cosa che è il top delle macchine fotografiche esistenti quelle professionali costavano credo 5.000 euro l'una e quello che abbiamo fatto tutte le prove del laboratorio è quello che dato che noi volevamo vedere e l'abbiamo fatto anche l'evoluzione temporale volevamo intanto fare dei mini filmati in cui scattare delle foto a tempo fisso e ciascuna macchina fotografica non riusciva a scattare le foto a tempi determinati più di 5 volte al secondo si poteva chiedergli di farlo 8 volte al secondo lo faceva però qualche volta faceva un millisecondo prima un millisecondo dopo tre millisecondi prima quindi se uno vuole una cosa precisa bisogna fare 5 al secondo e quando abbiamo scoperto questo abbiamo detto vabbè mettiamo due macchine fotografiche una accanto all'altro in cui una volta fanno la foto 1 100 millisecondi fanno la foto 2 poi ritorno indietro ciascuna macchina fotografica stanno a distanza fanno lavoro a 200 millisecondi però messe assieme sono 100 millisecondi e quindi queste sono messe praticamente più attaccate possibili proprio una rispetto all'altra e in questo modo questo funziona quindi a questo punto quello che noi abbiamo abbiamo un sistema che essenzialmente quindi schematicamente sono due di fatto sono sei una semplicemente perché le macchine fotografiche dell'epoca erano lenti e la seconda è perché la terza è per vedere un pochettino dietro nel caso che si suappongono abbiamo cominciato a prendere delle foto allora prendiamo per prendere queste foto ecco allora vi faccio vedere essenzialmente due tipi due immagini che abbiamo ottenuto con le due macchine fotografiche diverse a questo punto dice facile sappiamo qual è l'uccello nella prima foto vediamo l'uccello nella seconda foto facciamo un po' di trigonometria elementare e misuriamo gli angoli gli angoli e poi costruiamo le distanze allora se vedete ci sono a questo punto un po' di macchiolini di questi quadratini e questi quadratini se questi quadratini indicano degli uccelli che chiaramente sono gli stessi nella foto a destra e nella foto a sinistra allora questo 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 per questo certamente per i quadratini esterni se guardate il quadratino al centro e il quadratino al centro a quale uccello corrisponde nell'altra foto non è evidente per esempio uno può fare il suggerimento che corrisponda a quello però non ha delle cose riconoscibili ed è chiaro che questa foto in cui ci sono 600 700 uccelli e identificare qual è l'uccello di destra e l'uccello di sinistra non è una cosa certamente che si può essere fatta a mano e non è nemmeno una cosa badale da fare quindi il problema serio per fare questa stereografia è di immagini stereografiche è di identificare gli uccelli in una foto o nelle altre foto allora quello che succedeva che queste cose hanno state fatte nel passato ma con gruppi di 15 uccelli se voi avete 15 uccelli 20 uccelli così via poi spesso uccelli grossi in cui è facile identificare quello con le alle aperte quello con le alle chiuse e così via l'identificazione dell'uccello destra a sinistra può essere fatta facilmente e viene può essere fatta a mano quello che succede questa identificazione è assolutamente non banale e questo lo sapevamo proprio per questo motivo perché è assolutamente non banale abbiamo incominciato a fare le cose premunendoci più o meno in grande stile con un finanziamento dell'Unione Europea per farlo e dall'altro la cosa che abbiamo aspettato che ci fossero delle macchine digitali di qualità sufficiente per poter fare questa gestione perché il numero di foto tipicamente che è una campagna invernale che nella rama è dell'ordine 40.000 50.000 e l'idea di dover gestire 40.000 50.000 foto su pellicola era qualcosa che ovviamente si spaventava notevolmente mentre gestire 40.000 50.000 foto basta entrano in qualche gigabyte di memoria si organizzano facilmente in file e così via quindi questo è quello che quindi allora quello che abbiamo dovuto fare è essenzialmente incominciare a trovare tutta una serie di tecniche col computer di cercare di identificare globalmente quelli di destra qual è l'uccello di destra con l'uccello di sinistra con la complicazione che a volte due uccelli sono molto vicini fanno una spessa di blob di masso di macchia in cui non si capisce se sono uno se sono due se c'è un terzo dietro e così via e quindi fare tutto questo lavoro allora questo è un lavoro di data analisi che abbiamo fatto e questa è la parte più delicata che non avrebbero potuto fare dei biologi perché si trattava proprio di inventarsi delle tecniche per fare la data analisi di questo genere tecniche che non erano assolutamente disponibili perché nessuno in letteratura aveva mai provato a identificare gruppi così numerosi di uccelli e poi identificare in maniera automatica allora ecco qua allora il gruppo di uccelli che avevo fatto vedere prima una volta che lo ricostruite tridimensionalmente e lo guardate lateralmente o lo guardate da sopra ha un aspetto completamente diverso da quello che avevate che vedrete prima ovviamente il vantaggio della ricostruzione tridimensionale è che una volta che l'avete ricostruito potete osservare da tutti i lati la cosa in qualche modo non tanto inaspettata perché Nicola un pochettino che è bibbo che ha lavorato con noi se l'aspettava quello che vedete è formato una struttura abbastanza piatta quindi essenzialmente questi stanno da un lato è molto piatta e dall'altro lato invece è un pochettino è un pochettino non tanto regolare con qualche con qualche inseneratura e così via e quello che succede questa struttura piatta è da un lato è la spiegazione del fatto scusate è una spiegazione del fatto che questi cambiano così velocemente forma perché immaginate di vedere per esempio questo cellulare e poi immaginate che lo vedete così è chiaro che la forma cambia enormemente voi non siete stupiti perché di questo cellulare avete un'immagine tridimensionale sapete tridimensionalmente com'è fatto e quindi e quindi vedete che è lo stesso oggetto il gruppo di storni voi non avete l'immagine tridimensionale in mente quindi quando vedete una cosa di questo genere avete l'impressione che tutti questi uccelli si avvicinino gli uni con gli altri e poi quando vi girano così si allontano di nuovo nello stesso motivo qui quando stanno così gli uccelli stanno molto separati quando stanno così si tendono a sovrapporvi gli uni con gli altri quindi quando li vedete di taglio lo storno vedete una cosa estremamente neva che poi a questo punto diventa più chiara quando stanno in questo modo e quindi questo spiega ha molto l'effetto cangiante che c'è perché l'effetto cangiante è quello più spettacolare effetto cangiante che è anche dovuto al fatto che se voi li vedete il profilo di lato le ali sono un po' più grosse un po' più piccole quindi quello che succede è che alla fine del lavoro questi credo che siano 600 uccelli adesso non ricordo il numero preciso si possono fare delle ricostruzioni molto precise questo è un'altra ricostruzione di un gruppo di uccelli un po' più piccolo ecco questa invece è una ricostruzione di un gruppo di 2500 uccelli circa adesso se volete contare si può provare però lo verificare e questo quindi abbiamo fatto il primo articolo che abbiamo fatto è un articolo che è stato pubblicato sui Proceeding National Academy of Science ed è uno degli articoli più citati miei su circa 2000 citazioni 2000 citazioni perché è stata qualcosa che ha completamente cambiato in modo possibile di studiare questi grandi gruppi di animali e la cosa che può essere divertente è che è stato respinto sia da Nature che da PNAS e da Nature che da Science mentre è stato accettato su un'altra rivista anch'essa prestigiosa ma un pochettino meno della prestigiosissima Nature va bene quindi questo è il lavoro che abbiamo fatto nel 2000 scusate nel 2008 scusatemi perché c'è questo questo ne avevamo già visto vabbè in ogni caso è inutile rivedere ah sì 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 adesso ecco scusatemi ecco adesso vorrei farvi vedere un filmato questo è un filmato di uccelli che girano quindi quindi possiamo provarli a vedere vedete un gruppo di uccelli veramente piccolo che girano la prima domanda che uno si può fare quando girano che cosa succede chi è quello che sta davanti quello che sta dietro e così via quindi a questo punto quello che abbiamo fatto allora questi sono gli esperimenti di seconda o terza generazione con macchine fotografiche molto più veloci perché la tecnologia delle macchine fotografiche cambia cambia con il tempo e queste adesso non mi ricordo che velocità avevano ma certamente e adesso vedete a questo punto la ricostruzione quindi a questo punto quello che uno può fare può fare una ricostruzione tridimensionale una ricostruzione delle traditorie per cui vedete i singoli uccelli già come si muovono i singoli uccelli quindi potete identificare qual è quello che sta davanti e qual è che sta dietro e poi avendo fatto queste ricostruzioni sul computer potete guardare questo movimento da direzioni diverse e quindi a questo punto avete tutta l'informazione necessaria per capire come questi si muovono quindi questo permette avere tutta l'informazione su come avviene questi momenti che sono le cose più spettacolari e essenzialmente quello essenzialmente questo lavoro infatti il lavoro precedente il 18 questo lavoro è del 14 quindi sei anni dopo quindi la tecnologia molto più avanzata è quello che essenzialmente quello che si vede alla fine due cose intanto che questi uccelli non hanno non hanno quelli che stanno davanti che decidono e gli altri seguono perché quando girano quello che succede girano quasi come i militari con fronte a destra in cui tutto il manipolo di militari gira ma gira nel senso che quelli che stanno davanti finiscono a sinistra e quelli che stanno a destra finiscono davanti quindi non fanno un giro di questo genere anche se l'impressione ma fanno praticamente tendono un po' a girarsi tutti in maniera coordinata girandosi cambiando poi non rispettando le direzioni avanti e dietro l'altra cosa che se uno ha un'analisi può fare un'analisi molto precisa infatti quella è stata fatta io mai non ci lavoro più da 15 anni è stata fatta con macchine fotografiche molto veloci che possono fare 150 fotogrammi al secondo sono macchine industriali che servono per che servono spesso per vedere sotto la catena di montaggio degli oggetti che passano e vedere se hanno difetti o non hanno difetti quindi con macchine industriali da 150 fotogrammi al secondo quello che si riesce a vedere è che quello che succede essenzialmente è che questo gruppo di uccelli non è che va sempre ditto ci sono un po' di uccelli che tendono a spostarsi un po' verso destra c'è gli uccelli che tendono a spostarsi verso sinistra gli uccelli mantengono la loro posizione rispetto agli altri essenzialmente guardando i primi vicini è come un po' quando uno guida solo per le strade cerca di non sbattere con quello a destra con quello a sinistra o con quello davanti con quello di dietro spera che quello di dietro si pensi lui e poi quelli due cose avanti o tre cose avanti o quelli più lontani provvederanno gli altri a non sbattere su quelli lontani quindi essenzialmente si muovono muovendosi in questo modo e ci sono un po' qualche volta qualche gruppo di uccelli tende a spostarsi a destra a spostarsi a sinistra e quello che succede gli altri uccelli spesso reagiscono continuando ad andare dritti e quindi se il gruppo degli uccelli continua a andare dritti e quelli che vogliono il distanziente che va a spostarsi a destra a sinistra non va bene qualche volta quello che succede è che un gruppo spesso al centro di uccelli tende a girare in qualche modo e questo cosa è accettato dagli altri uccelli e a questo punto fanno questo giro a destra quello che è quello che è più complicato è vedere che cosa succede quando durante l'attacco del falco il problema serio di tutto di tutti questi almeno delle prime generazioni era che noi lavoravamo su macchine fisse il motivo per cui noi lavoravamo su macchine fisse è che a noi è fondamentale l'allineamento al decimo di grado o anche più delle macchine l'una con l'altra perché se non sappiamo gli angoli e così via non siamo in grado di fare misure è chiaro che a questo punto muovere le macchine con una tecnologia che mantenga l'allenamento al decimo di grado non è una cosa facile ci potremmo consultare l'allena spazio cose direi ditte militari che hanno le tecnologie per orientare i cannoni con grande precisione e vedere se ce le prestavano però devo dire che non ci abbiamo approvato per tanti motivi quindi quello che succede adesso ci sono queste tecnologie quindi però noi lavoravamo essenzialmente con macchina fissa quando uno lavora con macchina fissa c'è una regione molto piccola dello spazio dove le macchine sono orientate perché devono diventare nella zona di sua posizione delle due macchine e quindi bisogna aspettare mezz'ora e così via che gli uccelli si degnino di andare in quella direzione quindi adesso quindi quello che succede è che il numero di eventi con la tecnologia di macchine fissa in cui si riesce a vedere una cosa di questo genere non è molto scarsa e d'altro canto questi filmati con gli storni sono fatti di un autologo professionista che vede lì punta la singola telecamera nella direzione giusta quindi non è caso quello che succede è che pian piano la tecnologia si è volvendo adesso ci sono tecnologie affidabili in cui si possono non militare in cui si possono orientare questi oggetti con precisione singola precisione buona e quindi si sta lavorando si sta cercando sempre di andare avanti di avere maggiori informazioni e questo e poi tutto questo però funziona solo supportato da tecnologie diciamo sia informatiche e da una necessità di sviluppare algoritmi e così via quindi alla fine quello che posso dire è che abbiamo capito abbiamo capito abbastanza bene come funziona come funziona questo movimento degli storni come si tengono vicini fra di loro in qualche modo che comunicano fondamentalmente fra primi vicini fra gli uccelli che stanno più vicini e quello che poi le stesse persone di questo gruppo come dicevano hanno fatto hanno cominciato a studiare i meccanismi per come si muovono altri gruppi di animali che si muovono in maniera coordinata per esempio ci sono gli studi che sono fatti sui moscerini i moscerini della frutta sapete li avete visti che fanno questa specie di turbini uno sopra 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 pezzo nei campi o dove c'è della frutta delle cose di questo genere sono gli animali incredibili che fanno un gibo di 90 gradi in quasi un centesimo di secondo cioè fanno proprio zig zag con una velocità incredibile o di zanzare anche le zanzare fanno delle nuvole di zanzare e quindi ci sono tutte mi avevano detto a suo tempo che in Africa ci sono delle nuvole di zanzare malaviche bellissime da vedere però finora nessuno ha avuto il coraggio di affrontare le zanzare malaviche a fare i filmati quindi ci sono tutta una serie e quello di studi che vengono fatti è quello che vedete che le regole dei moscerini e le regole di zanzare sono molto diverse dalle regole degli uccelli proprio perché loro hanno necessità di tipo strutturale di tipo diverso va bene io direi che ho finito grazie a tutti grazie a tutti